Siamo nuovamente in diretta dalla nostra Chiesa Cristiana Evangelica Assemblea di Dio in Italia di Parma per il nostro secondo culto e vogliamo leggere insieme la parola di Dio nella seconda epistola a Timoteo capitolo 3 dal versetto 10. Seconda Timoteo 3, 10. Tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze, quello che mi accadde ad Antiochia, Iconio e Alistra. Sai quali persecuzioni ho sopportato e il Signore mi ha liberato da tutte. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. Tu, invece, persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle scritture sacre, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio. È utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Al culto precedente abbiamo considerato il pericolo di seguire il Signore da lontano. Vorrei in questo culto soffermarmi sul versetto 10 che abbiamo letto. Tu, invece, hai seguito da vicino il mio insegnamento. Seguire da vicino. È importante seguire il Signore ed è importante seguire il Signore da vicino. La seconda epistola a Timotio è l'ultimo scritto dell'Apostolo Paolo. Viene definito il testamento spirituale di questo servo del Signore. Ed egli scrive a suo figlio spirituale, Timoteo. Infatti l'Apostolo Paolo era particolarmente legato a questo suo collaboratore, il quale si era convertito attraverso la strumentalità di Paolo e aveva iniziato a servire il Signore. Ed era così legato a questo suo collaboratore che in una circostanza disse non ho nessuno d'animo pari al suo. Era un servitore veramente fedele, Timoteo. Del resto, con un esempio come l'Apostolo Paolo, non poteva che servire il Signore fedelmente. L'Apostolo Paolo aveva con sé nel suo viaggio missionario Timoteo, ma poi a un certo punto lascia questo suo collaboratore ad Efeso, a prendersi cura della chiesa di Efeso. E quando scrive, Timoteo era il pastore di questa comunità. Era sì un giovane pastore, ma era un uomo veramente fedele, consacrato a Dio. E l'Apostolo Paolo nel scrivere appunto questa sua messiva verso questo suo collaboratore, che poi è stata inserita nel canone della scrittura, gli dà diverse esortazioni. L'Apostolo Paolo parlava dalla sua esperienza che oramai aveva, dicevo, era arrivato al termine del suo percorso cristiano, del suo servizio al Signore, era arrivato per lui il momento di passare in gloria, a migliore vita, aveva finito la corsa, aveva serbato la fede, era rimasto fedele al Signore. Ed ha appunto a Timoteo diversi consigli. E a un certo punto sottolinea l'aspetto di seguire il Signore da vicino. Stare vicino al Signore. Perché è importante, fratelli e sorelle, seguire il Signore da vicino? Per diversi motivi. E che cosa produce di prezioso, di importante, di necessario nella nostra vita il seguire il Signore da vicino? Perché quando noi seguiamo il Signore da lontano, e se seguiamo il Signore da lontano, ricordiamoci che ci saranno delle conseguenze per la nostra vita. Non per colpa di Dio, per colpa della nostra distanza dal Signore. Così come se noi seguiamo il Signore da vicino, ci saranno dei benefici. Benefici straordinari. E qui l'Apostolo Paolo, nel versetto 14, nel versetto 15 e nel versetto 16 elenca tre benefici che noi, come Timoteo, possiamo realizzare nella nostra vita se seguiamo il Signore da vicino. Prima di tutto, se noi seguiamo il Signore da vicino, noi persevereremo nella parola. Non è secondario, fratelli e sorelle. Infatti, dice il versetto 14, tu invece persevera nelle cose che hai imparato e di cui hai acquistato la saggezza, sapendo da chi le hai imparate. Hai seguito da vicino e ora persevera nella parola. Perché? Proprio siccome tu, Timoteo, hai seguito e segue il Signore da vicino, ora puoi perseverare nella parola. Fratelli e sorelle, per noi perseverare nella parola è fondamentale. Non è un aspetto secondario della nostra vita. Non è un aspetto marginale. C'è bene, non c'è, è lo stesso. No, 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 no. La nostra relazione col Signore, la benedizione della nostra vita spirituale dipende da come noi ci relazioniamo e da come noi perseveriamo nella parola. È la parola di Dio. Innanzitutto dobbiamo perseverare nella parola personalmente. Ma tu invece? Altri non lo fanno? Altri agiscono diversamente? Tu non guardare quello che fanno gli altri. Tu non lasciarti, dice Paolo a Timoteo, condizionare dagli altri. Dalla tua età, Timoteo era giovane, dalla tua inesperienza, dal tuo carattere, Timoteo era timido. E così via. Tu invece persevera. Tu fallo. Fratelli e sorelle, se perseveriamo o meno nella parola, dipende da noi. Non sono le circostanze impedirci di perseverare nella parola, ma il nostro rapporto con Dio, la nostra vicinanza al Signore, che ci consentirà personalmente di perseverare nella parola. Tu, fratello, sorella, persevera nella parola. I tempi sono difficili, persevera nella parola. Altri apostatano dalla fede, tu persevera nella parola. L'amore dei più si sta raffreddando, persevera nella parola. Tu fallo. Non soltanto perseverare personalmente, ma ancora dice, persevera nelle cose che hai imparate. Ciò che abbiamo imparato. Da chi aveva imparato le verità bibliche, Timoteo? Eh, ci verrebbe da dire dalla nonna, dalla madre, perché fin da fanciullo aveva avuto conoscenza degli scritti sacri. Ma in realtà qualcun altro che, meglio della madre, meglio della nonna di Timoteo, aveva insegnato le verità bibliche a Timoteo. Lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ci guida. È lo Spirito Santo che ci istruisce nella parola. È lo Spirito Santo che ci permette e ci consente di perseverare nella parola. L'opera dello Spirito Santo nella nostra vita è insostituibile, fratelli. È unica. E l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita sarà un'opera efficace, efficace in misura di come noi ci arrendiamo all'azione dello Spirito Santo. Ci sia un rapporto di intima comunione con lo Spirito Santo. In modo che lo Spirito Santo possa continuamente essere il nostro paracleto, il nostro consigliere, la nostra guida. lo Spirito Santo. E ancora, perseverare nella parola personalmente per l'opera dello Spirito Santo produce qualcosa che qui l'Apostolo Paolo definisce certezza. E hai acquistato la certezza. Hai acquistato, hai ricevuto la certezza. Il credente non vive un cristianesimo nebuloso, astratto, incerto, insicuro. Egli è certo, è sicuro. L'Apostolo Paolo definisce la sua certezza cristiana dicendo io so in chi ho creduto. Il credente non va avanti a momenti alterni. Il credente avanza, risoluto nelle vie del Signore. Il credente non segue il Signore Gesù in modo incerto, titubante, traballante, insicuro. Lui sa in chi ha creduto e va avanti con forza nel Signore, va avanti nelle vie di Dio. onore, serve il Signore nonostante tutto. Vai avanti, serve il Signore, onoralo, fai la sua volontà, persevera nella parola. La nostra perseveranza nella parola determinerà il nostro perseverare nel cammino della fede. Seguire da vicino produce la perseveranza nella parola, indispensabile. Ma ancora seguire da vicino ci produce produce in noi la saggezza del Signore. Quanto è importante la saggezza spirituale. Versetto 15 Fin da bambino hai avuto conoscenza delle Sacre Scritture le quali possono darti sapienza che conduce alla salvezza. La saggezza cristiana è il risultato della conoscenza e della rivelazione della parola di Dio. Dice il salmista nel Salmo 119 Tu mi hai dato con la tua parola più saggezza degli anziani. Le persone anziane hanno comunque o dovrebbero avere una saggezza frutto della loro esperienza di vita. Il credente ha una saggezza che non è il frutto della sua esperienza di vita è la saggezza che viene dall'alto che è pacifica pure arrendevole piena di frutti di misericordia dice la Bibbia e se uno manca di saggezza dice ancora la scrittura la chiede a Dio che dona a tutti liberamente fratelli e sorelli io e voi oggi più che mai abbiamo bisogno di saggezza stare vicino al Signore colui che è saggio per mezzo della parola mediante l'azione dello spirito produce saggezza saggezza c'è un uomo caratterizzato dalla sua sapienza dalla sua saggezza più sapienza che saggezza perché sono due cose diverse sapete la sapienza e la conoscenza la saggezza e la conoscenza messa in pratica un uomo così sapiente così saggio da diventare l'uomo più sapiente della faccia della terra perché era così sapiente eppure quest'uomo era giovane non aveva ancora letto Giacomo se uno manca di saggezza la chiede a Dio ma l'aveva chiesta a Dio antelitteram l'aveva chiesta a Dio cosa vuoi che io ti faccio sto parlando ovviamente di Salomone cosa vuoi che io ti do chiedimi quello che vuoi dammi saggezza dammi sapienza sembra quasi che Dio alla richiesta di Salomone rimase meravigliato e Dio gli diede saggezza gli diede sapienza e un certo punto Gesù disse qui parlando di se stesso vi è più che Salomone e allora se io e voi stiamo con colui che è il sapiente il saggio per eccellenza Cristo Gesù e stiamo vicino a lui non acquisteremo quella saggezza necessaria la nostra saggezza spirituale dipende dalla nostra vicinanza da Gesù la saggezza del Signore egli ce la dà hai avuto conoscenza delle scritture le quali possono darti sapienza avete notato possono darti sapienza perché l'apostolo Paolo non dice le quali ti danno sapienza come a dire tu ricevi la parola e la parola ti può dare sapienza e quando ti dà sapienza quando ti dà saggezza quando la metti in pratica quando la vivi quando ubbidisci quando ti sottometti ad essa fratelli e sorelle la nostra saggezza spirituale non dipende dalla conoscenza che abbiamo della Bibbia ma la nostra saggezza deriva dal mettere in pratica la parola dice l'apostolo Paolo se io avessi la conoscenza e sapessi tutti i misteri non mi servirebbe a nulla se non avessi carità cioè se io non mettessi in pratica per amore del Signore quella che è la vita cristiana Gesù dice in maniera come faceva sempre Gesù quanto mi piace Gesù apre e chiude una parentesi e spero di avere il vostro Amen quanto amiamo Gesù quanto è prezioso Gesù Gesù in maniera così molto semplice dice se sapete queste cose siete beati se le fate non fa giri di parole siete beati non se le sapete se le fate se le mettete in pratica la tua saggezza spirituale deriva dal mettere in pratica la parola di Dio io e tu possiamo conoscere la Bibbia a mena dito ma non serve a nulla la lettera uccide la carità che edifica Signore aiutaci a mettere in pratica la tua parola a vivere la tua parola la benedizione del Signore deriva dal mettere in pratica la sua parola la parola di Dio è messa in pratica per la nostra vicinanza con Gesù da vicino poi dice un altro termine degno di attenzione che conduce alla salvezza mediante la fede in Gesù Cristo non dice che ti fa realizzare la salve conduce alla salvezza ma perché noi non siamo già salvati dobbiamo essere condotti alla salvezza fratelli e sorelle noi siamo salvati ma dobbiamo perseverare nella fede noi abbiamo iniziato il cammino della fede ma dobbiamo arrivare alla fine noi abbiamo conosciuto Gesù ma dobbiamo essere con Gesù per l'eternità fratelli e sorelle non siamo arrivati abbiamo iniziato gloria a Dio stiamo proseguendo gloria a Dio ma dobbiamo arrivare dobbiamo arrivare fino alla fine e possiamo arrivare per la saggezza del Signore con la perseveranza rimanendo vicino a Gesù dice l'apostolo Paolo un testo che meditavo ieri pomeriggio poi chi ci sarà oggi a Fiorenzuola capirà ma dice quel bel testo così come avete ricevuto Cristo come avete ricevuto Cristo camminate uniti a Lui uniti a Lui vicino a Lui vicino conduce alla salvezza e infine seguire Gesù da vicino vuol dire manifestare maturità spirituale purtroppo ci sono credenti che sottovalutano l'importanza di un cristianesimo maturo per molti la maturità cristiana la maturità del credente è quasi una cosa secondaria è importante il rapporto con Dio è importante realizzare i beni di Dio è importante servire Dio ma l'essere cristiani maturi è quasi un'opse è quasi secondario non è così sapete perché è importante che io e voi siamo dei cristiani maturi perché un cristiano maturo con la sua maturità onora Dio Dio è onorato da cristiani maturi fratelli e sorelle la maturità cristiana rende onore a Dio oltre a produrre dei benefici nella nostra vita che non sono secondari ma soprattutto un credente maturo è un credente che onora il Signore e ho l'impressione che per alcuni la maturità sia secondaria vabbè ma sì io sono convertito da tanti anni ci sono credenti che anziché maturare nel Signore invecchiano in chiesa noi non dobbiamo invecchiare in chiesa sono convertito da tanti dobbiamo maturare e la maturità cristiana ci porta a manifestare quelle che sono le caratteristiche del credente maturo del credente responsabile uno dei primi aspetti della maturità cristiana è che il credente smette di chiedere dagli altri e comincia a dare agli altri la maturità cristiana ci porta a smettere di chiedere di aspettarci dagli altri e comincia a dare agli altri a dare disinteressatamente a servire a non aspettarsi niente dagli altri a non lamentarsi se non riceve dagli altri a non lamentarsi di quello che fanno gli altri a non lamentarsi di quello che non ha ma comincia a dare a dare più felice cosa il dare che il ricevere dice Gesù allora la maturità si manifesta secondo il versetto 16 in quattro modi ogni scrittura è ispirata da Dio e è utile a insegnare il credente maturo è un credente che ha ricevuto e vive gli insegnamenti cristiani è bello il termine insegnare insegnare significa letteralmente lasciare il segno lasciare il segno Dio deve lasciare il segno nel nostro cuore lasciare il segno nella nostra vita il segno di Dio è un segno che ci distingue ci contraddistingue ci caratterizza ricordiamo tutti quando il peccato aveva lasciato il segno nella nostra vita ora è Dio che deve lasciare il segno nella nostra vita non soltanto insegnare essere istruiti ma dice ancora riprendere un credente maturo è un credente che si lascia riprendere da Dio la riprensione di Dio non è una cosa che ci deve sconfortare non è un qualcosa che ci deve demoralizzare è Dio Dio ci ha rimpresi a volte qualcuno dice ma oggi al culto la parola di Dio ci ha ripreso come se fosse quasi una cosa brutta il termine riprendere indica qualcosa di estremamente bello e prezioso deriva da quell'atto che il pastore fa quando una sua pecora si perde egli va alla ricerca la trova se la mette sulle spalle e la riporta all'ovile al sicuro nella sua grazia quell'atto di andare cercare prendere trovare riportare è riassunto con il termine riprensione questa è la riprensione di Dio noi che ci allontaniamo ci riporta vicino perché possiamo continuare a seguire il Signore da vicino allora io dico Signore se mi sono allontanato anche di poco da te se mi sono allontanato anche di poco dalla tua volontà se mi sono allontanato anche di poco da fare ciò che mi chiedi di fare riprendimi Signore riavvicinami a te riportami sul tuo cuore riportami al centro della tua volontà riportami sui sentieri di giustizia riportami Signore riportami non soltanto l'insegnamento la riprensione ma anche la correzione la correzione anche qui c'è un termine molto bello che ci fa comprendere quando noi guidiamo l'automobile forse non ce ne accorgiamo ma il nostro volante non lo mettiamo fisso non è che mettiamo una sorta di blocca sterzo se voi guardate giusto per qualche attimo guardate la strada o voi mogli guardate vostro marito mentre guida quando voi guardate il volante in realtà non lo mettete lì piantato si muove continuamente anche quando andiamo dritto il volante si muove lo muoviamo leggermente quei gesti così piccoli possono essere indicati come una correzione fratelli e sorelle io e voi abbiamo continuamente io per primo bisogno di essere continuamente corretti dal Signore ma questa è una cosa secondaria no no anche nelle piccole cose Signore correggimi e tienimi sempre al centro della tua volontà il Signore non ci corregge soltanto quando facciamo dei grossi errori ci corregge anche nelle piccole cose perché vuole che siamo fedeli anche nelle piccole cose vuole che siamo al centro della sua volontà ecco perché egli agisce qual è il padre che non corregge suo figlio Dio proprio perché ci ama ci corregge e infine educare alla giustizia insegnare significa lasciare il segno educare significa tirare fuori tirare fuori l'opera di Dio nella nostra vita è quello di tirare fuori cosa deve tirare fuori il Signore educare significa tirare fuori ciò che di buono c'è chi è insegnante abbiamo delle sorelle che sono insegnanti a scuola sanno che uno dei loro compiti è con i bambini i ragazzi che hanno in cura è quello di tirare fuori le caratteristiche le qualità le cose positive di questi ragazzi oltre a insegnarli fratelli e sorelle il Signore deve mettere nel nostro cuore le ricchezze della grazia e queste ricchezze poi devono essere tirate fuori devono essere tirate fuori e devono onorare il Signore Gesù Cristo perché possiamo glorificare il suo santo nome seguire da vicino versetto 17 perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona un'ultima cosa seguire Gesù da vicino lo potete leggere nel versetto 11 non ci esime dalle difficoltà dalle prove dalle sofferenze anzi adesso spero di non scoraggiarvi alla fine più seguiamo il Signore Gesù da vicino più noi saremo perseguitati e maltrattati dagli uomini c'è un prezzo da pagare ma volete mettere sì essere maltrattati dagli uomini essere sì perseguitati dagli uomini perché abbiamo letto tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati ma volete mettere la vicinanza con Gesù la presenza di Gesù l'amore di Gesù se tu vuoi seguire Gesù da vicino dovrai pagare un prezzo umano ma realizzerai delle benedizioni divine segui Gesù e seguilo da vicino vogliamo alzarci grazie grazie grazie